benvenuti all'intervista mappo oggi siamo con la consulente mappo giovanna vitale oggi andremo a conoscerla scopriamo un po il suo percorso come iniziato in accademia come si è sviluppato in questo tempo io mi chiamo alba romito sono fondatrice l'accademia mappo creatrice del servizio a domicilio lascia fare a noi che è il servizio grazie alla quale tutte le consulenti mappo sparse in tutta italia possono aiutare concretamente organizzando la casa delle mie clienti direttamente a domicilio a casa loro ed è un servizio appunto che è nato e si è diffuso piano piano in tutta italia l'obiettivo aiutare più persone possibili quindi questo è la missione mia e tutte le consulenti mappo e quest'oggi appunto conosceremo giovanna e diamo quindi la possibilità a lei adesso di introdursi e di farsi conoscere a tutti noi ciao ben trovata alba e ovviamente un saluto a tutti quelli che seguiranno questa intervista come ha già anticipato alba io mi chiamo giovanna vitale sono pugliese ho 50 anni compiuti e mi occupo nella vita di consulenza tributaria in più ho tutta una serie di scelte che ho fatto durante il percorso quindi anche affrontando determinate categorie determinate situazioni perché chiaramente non parto da oggi io seguo alba dal 2018 e ho partecipato comunque con gioia praticamente credo tutti i suoi percorsi e di lì ovviamente nel corso degli anni ho maturato tantissime scelte quindi sono vegana ho deciso di diventare vegana e ho chiaramente dovuto applicare tutta una serie di cambiamenti alla mia dispensa alla mia routine di salute insomma tutta una serie di cose ho scelto di seguire un percorso dal con affiancata da un bravissimo dentista per allineare i denti che finalmente come vedete sono insomma ormai anche a buon punto quindi sono tutte sono tutti progetti che sono partiti e ormai posso dire sono arrivati a buon punto vorrei posso dire sono finiti e infatti seguo come dicevo seguo alba dal 2018 da quando lei era ancora più giovane e infatti ricordo un video che è stato il video in cui ho incontrato alba ho incontrato te in cui facevi la valigia e allora qui mi ricollego subito ad una cosa che voglio dire di me perché in sostanza qui in famiglia quando ci sono dovuti fare viaggi mi hanno sempre chiamato per fare le valigie e allora quando ho visto questa ragazza che questa giovane ragazza che comunque faceva questa valigia ho detto ma guarda questa fa una bella valigia ma vedi che bel metodo e lì di lì sono partita a seguirti poi chiaramente quello è stato l'occasione per per conoscerti però ci sono stati poi anche poi chiaramente sei subentrata anche per tante altre situazioni perché io attualmente vivo da sola e vivo in una casa abbastanza grande la casa che è appartenuta ai miei genitori e quindi diciamo che poi la mia scelta di seguire i tuoi percorsi o comunque trovare una soluzione è dipesa proprio dal fatto che qui c'erano 60 anni di storia che mi sono ritrovata gestire sola e quindi vuoi perché chiaramente insomma le emozioni e i ricordi vuoi perché effettivamente era tanta roba tanta roba e ho sentito proprio l'esigenza di rivolgermi a qualcuno che mi mi supportasse insomma che ho visto questa possibilità e ho detto vabbè ma se c'è un modo per fare una cosa in in modo comunque in poco tempo con una serenità in più e con una certezza di raggiungere un risultato perché non approfittare e quindi diamocela questa gioia diamocela la gioia ogni tanto e allora eccomi qua quindi insomma questo è in sostanza sommi capi poi insomma ci sarebbero potremmo parlare all'infinità ci sarebbero tantissime cose da dire però chiaramente queste sono le cose più importanti in effetti da quello che tu hai detto comunque tu hai fatto prima un percorso di riordino quindi il tuo percorso che poi adesso ti farò altre domande riguardo comunque percorso di riordino che ti ha portato a lavorare sul tuo ambiente sulla tua casa che collezionava tanti ricordi perché questo poi il concetto 60 anni di storia vuol dire tantissimi ricordi tanto valore emozionale questo lavoro che tu hai fatto ti ha aiutato poi ad attuare dei cambiamenti anche nella tua vita che sono andati a toccare l'alimentazione per esempio e anche il il tuo sorriso con con l'apparecchio che che ti ha ti ha portato insomma a prenderti cura di te no fare ordine ci aiuta a pensare un po di più a noi ecco a noi poi quello che ci porta a fare sono tantissime scelte che tu hai attuato queste sono alcune delle diciamo più impattanti e rilevanti che possiamo vedere anche noi la domanda adesso è quindi tu come eri prima disordinata sei stata sempre ordinata come è stato il tuo percorso fino a diventare consulente mapo ordine e disordine come hai allenato a vita allora sì beh dunque come come ti dicevo premetto io sono un amante dell'ordine sono proprio un amante dell'ordine e allora magari chi ascolta dirà ma allora che ci fai un percorso per il riordino beh qui colgo proprio l'occasione per mandare un messaggio alba che per me è importantissimo il disordine spesso ha tanti aspetti va bene ma uno di tanti aspetti del disordine è proprio dovuto a delle situazioni di vita che magari almeno nel mio caso cambiano in modo talmente repentino da non da non darti letteralmente il tempo di star dietro a determinate situazioni perché purtroppo nessuno ci insegna un metodo va bene perché è chiaro che io oggi penso che se mi fossi approcciata ad uno di questi percorsi tipo 30 anni fa chiaramente io avrei vissuto certo comunque è chiaro che magari perdere i genitori comunque sono delle emozioni negative non significa che questo ti aiuti questo non accadrà nella tua vita accadrà comunque però io comunque avrei potuto gestire diversamente la situazione ignorando ignorando perché non lo sapevo che esisteva un metodo nel senso che tutti noi hanno i loro metodi e tante volte mi sono ritrovata anche nei tuoi perché non tutto quello che chiaramente affronti e fai non va bene però nel mio caso è subentrato un discorso emozionale ok che ha portato poi un pochino di confusione perché chiaramente noi siamo involontariamente condizionati dall'ambiente in cui viviamo dalle persone che ci si che sono a fianco a noi quindi io vivevo male questo discorso perché affrontare la categoria dei ricordi mi sembrava quasi di dover ammettere accettare che ci fosse una mancanza cioè quindi non volevo affrontarla perché in un certo qual modo era come avere ancora la presenza di persone che in realtà purtroppo non ci sono più poi però durante il percorso ho capito che sarebbe poi diventato per me una sorta di gabbia col tempo non sarei più riuscita ad andare avanti nella mia vita e quindi ho voluto affrontare cercando un metodo cercando comunque un modo più soft più mentale più ordinato che lasciasse da parte un pochino alle emozioni che fosse più pensato quindi affrontando determinate categorie con cognizione di causa ecco forse questa è la parola più giusta che mi viene in mente sulla base anche di quello che appena detto diciamo che tu hai provato quindi i miei metodi metodo di esclusione per la cernita il metodo per l'organizzazione ovviamente era un test all'inizio poi ti sei trovata bene perché alla fine ti ha aiutato ad affrontare tutti i tuoi ricordi ad affrontare le cose nella tua casa a fare dei passi avanti che per te era stato impossibile fino a quel momento e sulla base anche di questa fiducia poi tu hai scelto di voler insegnare i miei metodi di entrare in academia mappo cosa ti ha spinto ad iniziare poi questo percorso ma mi ha spinto comunque l'idea che di sapere con certezza perché chiaramente io l'ho fatto ma tante persone che comunque incontro mi circondano sia nell'ambito familiare sia nell'ambito delle amicizie vivono questo problema sai non sono non sono sola perché non avere un metodo comunque per tutti significa ritrovarsi un pochino spiazzati di fronte ai cambiamenti della vita e quindi non riuscire ad andare di pari passo tra le esigenze effettive concrete tue attuali attuali che cambiano praticamente al ritmo spesso cambiano diciamo negli anni molte volte anche possono cambiare in poco tempo chiaramente noi qui parliamo in modo generale però ci sono comunque degli eventi che accadono in pochissimo tempo ed altre cose che magari si col tempo maturano perché magari tu già le hai ehm dentro ma non le tiri fuori perché hai delle difficoltà a farlo no in quanto tutto ciò che si sceglie di fare ha sempre anche bisogno di un supporto che non sia solo di applicazione ma anche di gestione non so se mi spiegano eh cioè non puoi scendere quello che di cui ti circondi il tuo ambiente dalla realtà deve essere il più vicino possibile a quello che tu poi effettivamente vuoi eh realizzare va bene allora se faccio un esempio concreto perché magari così eh sì 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 non non rendo l'idea allora se tu vuoi per esempio intraprendere un percorso di studi piuttosto che un percorso di salute piuttosto che un scegliere per esempio che ne so ne dico uno a caso di avere un animale domestico per esempio qualsiasi scelta tu debba fare è ovvio che devi adattare l'ambiente in cui poi questo si svolgerà cioè tutto ciò che andrai a fare eh per eh confermare la tua scelta e per portarla avanti per fare il tuo percorso quindi portare la tua scelta avanti nel tempo dovrà vivere dovrà comunque avere un posto in cui si svolge no quindi decidi per esempio di mettere su famiglia e magari avrai dei bimbi la casa la dovrai adattare per i tuoi bimbi ok eh decidi di dipingere sì dovrai avere un posto per dipingere eh decidi di adottare un gattino un cagnolino un pappagallo dovrai adattare la tua casa per quello adattare però molte volte nella maggior parte dei casi purtroppo significa che tu prendi quello che già c'è lo metti cioè lo lo togli soltanto dai tuoi occhi e lo metti da parte no e rimane lì e rimane lì sì è vero e tu conti e quindi tu puoi chiaramente perché vivi il cambiamento eh cioè vai eh ovviamente a portare la tua attenzione le tue energie al cambiamento il problema è che poi tutto ciò che tu lasci da parte ad un certo punto eh sì è vero che si tende ad accumulare più che come hai detto tu l'adattarsi in realtà prevede quindi il cambiamento prevede una scelta qualcosa entra qualcosa esce perché qualcosa cambia cioè quando dici un sì c'è anche un no anche un no quindi dobbiamo capire qual è il no che abbiamo detto in in quel caso adattare l'ambiente quindi alla situazione attuale entra il pappagallo uscirà una passione a cui abbiamo rinunciato e che non dedicheremo più tempo per esempio oppure oppure magari abbiamo all'arrivo di un bebè avevamo una stanza in più che era magari palestra di vita alla palestra vogliamo stare per il bebè vuol dire che alcune cose alla palestra non ci saranno più vuol dire che andrai in palestra fuori casa cioè sono dei cambiamenti come hai detto tu ad adattare al alla realtà ed è assolutamente così io dico sempre eliminare cioè non solo far finta che non esistano fino ad accumulare è brava esatto è un problema questa tematica interessante che mi hai fatto emergere l'accumulo nei cambiamenti nei cambiamenti perché sai nei tuoi percorsi si sviluppa molto la capacità di scelta di scelta e anche di gestione della scelta perché io non c'è nel momento in cui io faccio una scelta ed è più che lecito ed è normale perché se fossimo sempre piatti dal primo momento in cui nasciamo fino a che torniamo a passare a miglior vita se fossimo sempre piatti insomma non saremmo esseri umani la vita di per sé è un continuo evolversi finché c'è è un'evoluzione sempre tutti i giorni a tutta l'età in tutte le situazioni però il problema è che poi la gestione di questa scelta che poi involontariamente perché ignori non sai che poi quello col tempo diventerà un problema perché chiaramente se oggi hai messo su una cameretta per i tuoi bambini magari spostando gli attrezzi della palestra nel postiglio a 60 anni che magari non riesci più a spostare i pesi della cosa non sai più con una casa che praticamente adibita a degli oggetti che ahimè non serviranno più o quantomeno non serviranno più a te quindi voglio dire comunque sì la tematica che tu hai letto è praticamente l'attaccamento che abbiamo alle cose e il continuo aggiungere quando c'è cambiamento noi aggiungiamo altro al posto di iniziare a lasciare andare la chiarezza tale la velocità nello sceglie dal concepire subito dal percepire subito che quegli oggetti alla fine non ci serviranno più quindi a quel punto è inutile affollare uno spazio dove chiaramente dobbiamo poi affaticarci per pulirlo per spostarli perché ogni tanto vai a spostarli e sono comunque pesi per comunque le case vengono riscaldate parliamo riscaldamento cioè voglio dire alla fine è un qualcosa che rimane risolto e più passano gli anni più gli risolti aumentano no perché le situazioni sono cambiate di conseguenza creano una bella montagna da smaltire il che insomma farlo poi senza avere una competenza senza avere comunque un'idea di come farlo velocemente di come farlo allegramente e diventa anche bloccante molto bloccante e quindi questo influisce tanto su tante persone su tante questo visto che hai introdotto no la difficoltà di farlo autonomamente beh ora andiamo a scoprire la tua esperienza come consulente MAPO con la tua prima esperienza con il servizio a casa lascia fare a noi raccontaci un po' come è stato beh innanzitutto aver saputo che c'era questa possibilità che potevi fare questo servizio e poi come l'hai vissuto e cosa ti ha dato ogni volta questa questa possibilità beh sì allora dopo insomma aver partecipato a tanti percorsi ad un certo punto ho vissuto chiaramente un po' con con scetticismo perché insomma tu sai che il mio è anche un lavoro abbastanza impegnativo pieno di scadenze come tutti i lavori quindi sai all'inizio mi sono chiesta se poi in realtà concretamente avrei potuto mai fare questa cosa perché tu sai che io lo faccio volentieri perché durante i fine settimana in alcuni orari non posso farlo a tempo pieno però in sostanza sai che cosa mi spinge poi a farlo l'idea proprio che chi mi sta chi comunque viene a contatto con questo tipo di percorsi in quasi io direi dopo un'ora ecco la metto così metto dopo un'ora hai di fronte una persona che prima aveva il il volto buio scuro e dopo incominci a vedere gli occhi proprio che si illuminano la leggerezza no incominci a vedere una persona che quasi dice finalmente vedo un po' di respiro un po' di luce dopo tanto tempo che portavo questo peso no e poi c'è anche un motivo molto importante si parla sai sempre di donne di come le donne molte volte devono sostenersi l'una con l'altra no e quindi ho pensato se io comunque ho fatto questo sono stata capace di farlo per non ho voglia di non ho avuto voglia di girarmi dall'altra parte cioè per la serie non ho voluto dire vabbè ho risolto i miei problemi che stop voluto proprio pensare che questa cosa potesse essere proprio colta da qualcun altro e quindi è stata una condivisione di gioia no di situazioni che possono comunque farti vivere una vita più più serena più tranquilla vedere una donna che magari per per questo tipo di problemi magari non si sente appropriata non si sente amata insomma è una cosa che colgo e sento molto forte e non mi piace quindi provo comunque anzi ci metto molto impegno perché questo non avvenga è bello vedere comunque è una donna che anzi sceglie in prospettiva cambia in pochissimo tempo cambia la sua prospettiva di vita va incontro alla gioia e non più alla pesantezza di vedere queste problematiche come un blocco perché poi in realtà non lo sono cioè c'è un modo per per far sì se non lo siano no a proposito di cambiamenti lei come l'hai vista prima e dopo c'è lo sviluppo della sua contentezza o comunque rilassamento durante il percorso in base anche al riordino concreto fatto in casa cioè se riesce a fare un come dire man mano che riordinavate la casa anche lei migliorava questo cambiamento come è stato io sono stata fortunata perché praticamente incontrato una donna molto intelligente molto colta una bella donna e che credimi a un certo punto era così entrata nel discorso riordino che mi ha piacevolmente sorpresa perché lì ha dimostrato chiaramente la sua intelligenza dimostrazione che comunque si può fare e vedevo ho visto dalla prima la seconda volta in cui ci siamo incontrate per la consulenza già un cambiamento enorme un cambiamento enorme dove praticamente credi non facevi in tempo a dire che già partiva felice ho avuto quest'idea facciamo diciamo insomma molto appagante molto appagante Senti se tu dovessi dire quali sono quelle tre qualità quelle tre caratteristiche che devono far parte di un consulente MAPO affinché possa effettivamente portare un risultato concreto e di questo tipo nella vita di un cliente nella casa di un cliente quali sono? Beh innanzitutto Alba sai molte volte la casa rappresenta un po' la nostra intimità quindi innanzitutto bisogna sempre entrare con delicatezza con tutto il rispetto e anche con tanta passione insomma nel riscontrare poi una similitudine insomma tra cioè devi sempre poi fare un passo indietro rispetto al percorso che hai fatto tu pensare calarti nei panni pensare a te quando hai iniziato e comprendere che chi in quel momento ti è di fronte parte da una situazione che comunque se non è uguale è simile perché poi ogni situazione è a sé stante quindi ci vuole sempre molta delicatezza disponibilità ma anche fermezza perché è importante dare una regola ed è per il bene di chi ti è di fronte che magari in un primo momento può non comprendere però sono poche regole ma devono essere sempre rispettate ed è bene che da subito chi si approccia un percorso del genere apprenda questo discorso poche ma buone e irrevocabili e poi per il resto disponibilità gentilezza comprensione e empatia ma le regole devono essere quelle e bisogna assolutamente insegnare a seguirle per me io sono di questo avviso altrimenti perché continua continua contro sia come punto di vista professionale e sia dal punto di vista di chi vive il percorso alla fine non raggiunge quello che si prefigge di raggiungere quindi questo è importante però almeno per quanto riguarda la mia esperienza ho avuto assolutamente di fronte una persona splendida veramente splendida io non posso chiaramente non facciamo nomi però sicuramente se segui all'intervista lei saprà che parlo di lei è stata una bellissima esperienza davvero ho avuto la fortuna di incontrare una persona splendida splendida che spero splenda ancora di più dopo a livello personale cosa ti ha dato questa esperienza come consulente mappo a livello personale mi sono è stato una riconferma di una mission cioè nel senso sai per quanto si valuti e si possa scegliere comunque nel momento in cui poi fai un'esperienza e la vivi è quello poi il momento in cui hai una conferma piuttosto che magari capire che invece non hai fatto la scelta giusta a me succede sempre così che comunque si faccio le mie valutazioni come fanno tutti però poi è sempre sul campo che tu ricevi quella cosa in più ed è stato per me è una bella riconferma perché è subentrata l'empatia è subentrato un ritorno proprio dal punto di vista di lavoro lavorativo perché è stata una bellissima esperienza cioè io sono riuscita comunque a trasmettere alcuni valori ad una persona e questo è una bella esperienza cioè torniamo poi a quello che insomma a me piace nella vita comunque essere come dire trascinare tirare dentro le persone nelle situazioni positive è una cosa molto appagante molto appagante sulla base di tutto quello che ci hai detto stiamo andando in conclusione della dell'intervista a chi consiglieresti di fare l'ordine a chi consiglieresti di notare sai io più che consigliare stronerei cioè direi in realtà è rivolto a tutti non c'è una categoria di persone a cui consigliarlo o meno è rivolto davvero a tutti in qualsiasi persone che comunque anche di diversità non ha uno standard l'unica l'unico le uniche persone a cui non è rivolto sono le persone che comunque si continuano magari a raccontare delle scuse che poi in realtà sono solo motivi per non fare per quelle magari anche no nel senso che l'importante è avere l'idea comunque essere indirizzati o comunque pronti ad affrontare un cambiamento e poi si trova praticamente una situazione che ti dà tutto ti dà attenzione ti dà supporto ti dà delle risposte praticamente tutte le domande che ti poni rispetto al riordino insomma c'è tutto quindi possono farlo veramente tutti tutti quanti nessuno è scuso sai cosa volevo anche prima di chiudere l'intervista volevo anche che tu potessi dire quali sono secondo te i tuoi punti di forza visto che comunque ci stanno ascoltando e questo è il bello perché conoscono te in questo momento ti sei presentata bene c'è tante aspetti te sono emersi però se tu potessi dire quali sono quei tre punti di forza che possono essere di aiuto no? a completare a spronare diciamo in un percorso una cliente quali sarebbero? beh allora te ne dico tre velocissimi uno riguarda la mia proprio il mio essere quindi io sono una persona assolutamente discreta e appaio come insomma nell'intervista sono comunque appaio come sono nell'intervista appaio sono anche nella vita appaio come sono nel senso sono non è che io abbia poi tanti filtri sono questa così come come si vede e sono una persona comunque molto empatica e molto discreta con cui praticamente è molto facile sentirsi a proprio agio cioè non è difficile che non mi è mai successo nella vita in generale che qualcuno mi dicesse no mi sono sentita in imbarazzo per me è molto facile essere svolgere comunque una chiacchierata o un lavoro in modo molto sereno nel senso che questa è una mia propria caratteristica in generale nella vita poi c'è comunque il fatto di avere per esempio trovare in me alcuni tratti comuni perché insomma in sostanza ho come ho accennato all'inizio dell'intervista probabilmente la mia storia è molto comune alla storia di tante altre persone e quindi magari avere poi la voglia di ripartire da una situazione che possa essere di lutto, di separazione, di cambiamento, di voglia comunque di rimettersi in gioco con però i dovuti accorgimenti, con i dovuti cambiamenti, quelli che magari la vita non ti ha dato la possibilità di esprimere perché molte volte abbiamo delle priorità e quindi se nel frattempo non abbiamo già sviluppato determinate situazioni purtroppo finiamo con il rimandarle perché vengono assolutamente schiacciate da priorità più importanti oppure ad esempio chi finora mi è sempre, mi sono sempre ritrovata con la categoria dei documenti che praticamente è un po' e quindi in quello insomma me la capicchio insomma, sono diventata abbastanza brava però sono anche un amante, dunque mi pongo in modo semplice però sono anche un amante del guardaroba sono una cucina animale quindi anche l'idea della riorganizzazione della cucina comunque mi piace molto non peraltro sono passata da un regime alimentare ad un altro quindi immagina questo cosa ha comportato perché poi sono una salutista nel senso che non sono una persona che va lì al supermercato e si compra tutte le cose conservate, tante cose insomma le autoproduco ma le faccio da me ho ovviamente le varie macchine che mi aiutano insomma in questo e quindi ho organizzato anche tutta una serie di cose che prima nella mia cucina non c'erano le ho dovuto organizzare proprio perché questo mi agevolasse, mi permettesse di portare avanti il mio progetto ed è sempre in miglioramento, in costante miglioramento poi ho un animale domestico ah è vero, non abbiamo detto che è vero, l'hai nominato pochissimo ah no, quindi anche in questo momento è ovviamente io ho imparato a gestire questa cosa in questo momento siccome sapevo che ho un'intervista con te, onde evitare che venisse qui ad avviare infatti non l'abbiamo sentito ma lei ha fatto, siamo uscite stamattina, ha fatto la sua lunga passeggiata quindi le sue energie le ha finite e adesso è nella sua cuccia, nella stanza con il sole a prendersi il suo sole e sta bella tranquilla quindi insomma chiaramente mi sono trovata benissimo comunque con l'idea dei documenti che in un certo qual modo mi appartengono però non ne escludo, ci sono anche altri settori in cui insomma che mi piacciono nei quali comunque progredisco giorno per giorno chiaramente poi sai non si ha l'opportunità, non è che si può in poco tempo non si può trasmettere poi tutto quello che fa parte di te ci sono tantissime cose che insomma nelle quali insomma me la cavicchio dai beh qua poi ognuna poi in base anche alle esperienze lavorative che avrai avrai modo di far conoscere tutte le tue capacità e poi la tua esperienza il nostro bagaglio soprattutto quello che noi facciamo su di noi quindi quello che è quotidiano, perché quello è quotidiano è quello che poi ti porta a sviluppare nuove idee, a concepire spazi in maniera diversa perché noi riorganizziamo e cambiamo no? la nostra casa proprio come detto tu, in base alla nostra vita, ai cambiamenti riguardo a roba può cambiare, così come la nostra cucina e anche il nostro salotto e tutto quello che ci circonda bene, siamo arrivati alla fine della nostra intervista e grazie mille per la tua condivisione, tutto oltre a quello che è il tuo ruolo di consulente mappo ma anche poi tu personale rispetto a quello che poi è stato il tuo cammino i tuoi pensieri, quello che insomma ti ha portato, ti ha dato ora dobbiamo fare però un augurio speciale a chi ci ascolta perché ovviamente noi possiamo solo che augurare il meglio e il bene ed è quello di augurare a tutti noi e a tutte le persone che ci hanno ascoltato fino ad adesso un buon riordino e gioia gioia infinita brava Giovanna, sapevo che avresti preso il mio gancio senti allora grazie sempre per le opportunità perché comunque è bello farsi conoscere e comunque al di là del fatto che è relativo alla persona l'idea proprio di trasmettere questa cosa che può veramente dare una qualità di vita migliore migliore, non perfetta ma molto migliore quindi è una bella opportunità e niente quindi io faccio oltre a due gioia infinita a tutti spero davvero che venga accolta questa opportunità noi ci siamo, ci sei tu, ci siamo noi, ci siamo e speriamo insomma che questo messaggio venga comunque compreso va bene, vero, concordo pieno assolutamente se noi possiamo mettere le persone possibili è questa la, è la, diciamo, la cosa è il bene più grande che possiamo fare perché l'ordine ha solo effetti positivi io dico sempre, non ha nessun effetto collaterale e quindi sì ci auguriamo questo davvero più ordine in tutte le case nella vita delle persone sì grazie Giovanna ti auguro una buona giornata grazie a tutti e grazie ciao, una buona giornata ciao, un abbraccione ciao